C'è stato un bellissimo, giusto, doveroso intervento di Papa Francesco su un fatto oggettivamente aberrante, schifoso, vergognoso, l'aumento di soldi per le spese militari. Chi ama la pace non si mette nel metto. Quello che sta avvenendo è frutto di sciagurate politiche, non soltanto da una parte, giustamente indignati per l'invasione, ma anche dall'altra parte. Gli Stati dovrebbero, soprattutto quelli che si dicono democratici, dovrebbero cooperare per la pace, lavorando su due piani, quello umanitario e quello diplomatico, non mettendosi l'elmetto, non mettendosi l'elmetto. Quello che è avvenuto l'altro giorno in Parlamento è stata una brutta pagina. Da un lato abbiamo avuto l'intervento del Presidente ucraino molto equilibrato rispetto ad altri interventi che ha fatto in altri Parlamenti, un intervento molto equilibrato. Lui si era sentito prima con il Papa e quindi non è detto che magari anche questo sia proprio servito per fare un intervento bello, giusto, equilibrato. Dall'altro un intervento guerrafondaio, fondamentalmente guerrafondaio, da parte del nostro Presidente del Consiglio. Brutta pagina. Ecco, dico la verità, mi sono quasi un po' vergognato, ecco, di essere italiano, perché non è così che si lavora per la pace. Non è mandando armi che si lavora per la pace, non è aumentando la spesa del PIL per le armi che si lavora per la pace, perché così siamo capaci tutti a dire pace, pace, armiamoci e partite. Se uno vuole veramente la pace, lavora per la pace. La storia non ha insegnato nulla e purtroppo la gran cassa mediatica in Italia, perché rimaniamo qui da noi, è tutta ormai sbilanciata non per la pace, ma per la guerra. E quindi anche tutti quei giornalisti opinionisti che si riempiono la bocca di pace sono fondamentalmente degli ipocriti. Poi un altro segno brutto è avvenuto proprio dagli Stati Uniti, che vogliono un po' fare come a suo tempo fecero i russi del blocco sovietico nei confronti di Pio XII. Tirare il Papa per la giacchetta, accusarlo di non condannare apertamente. Ma il Papa deve seguire un'altra ottica, che è l'ottica del Vangelo, non l'ottica politico-guerra fondaria di alcuni Stati, in modo particolare degli Stati Uniti in questo momento. Quindi stanno un po' attuando una mossa brutta, sporca, vergognosa nei confronti del Papa. Quindi bisogna pregare. Domani ci sarà l'atto di consacrazione della Russia e dell'Ucraina al cuore immacolato di Maria. Ed è giusto che sia così, proprio perché il Vangelo ci spinge ad essere operatori di pace, ma veramente lavorare per la pace. E questo vale per tutti, non solo per chi crede, ma anche chi non crede deve e può lavorare per la pace. Soprattutto chi guida i popoli, chi regge i popoli, chi è eletto dai popoli per guidare uno Stato. Lavorare per la pace. Quindi speriamo, ecco, che i nostri governanti di casa nostra tolgano l'elmetto e prendano in mano il ramoscello della pace, il ramoscello d'oliva, d'olivo, anche se forse ormai è tardi perché si sono compromessi. Quindi il rischio è che questo alimenti ancora di più le catombe che sta avvenendo sulla povera popolazione ucraina e poi a cascata su tutti. Bisogna proprio veramente invocare il Signore, lo Spirito Santo, perché illumini veramente queste persone, che smettano di essere ipocriti, di riempirsi la bocca di pace e quindi essere veramente in comunione con tutta la Chiesa, con il Papa nell'elevare la preghiera. E quindi domani, ecco, tutti invitati a pregare il testo della preghiera ormai è disponibile, lo si trova sui social, quindi unirsi alla preghiera in comunione con la Chiesa universale per chiedere proprio il dono della pace che deve poi nascere anche dentro ognuno di noi.